Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Abitini e Scarpette Rias de Dance. Introduzione di prodotto dalla fine di HIG H School DxD, figura di pole dancing pattinaggio azione Rias. Mi, stato riprodotto perfettamente il corpo e l'abbondanza, i capelli di danza P, del necessario. Atmosfera che, un adulto si aspetta, P, vecchio figura sorella. Dimensione corporea, altezza 26 cm di base 1 cm. Destinazione genere, ragazzo. Et. 15 anni. La paese principale produzione, Cina. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.